Nadia Toffa, ecco l'annuncio di Ilari Blasi e le Iene. Ieri durante la puntata del martedì delle Iene, presentata da Ilari Blasi, Teoma Mukari e la Jalapas Band, hanno finalmente rivelato qualche particolare in più sulle sue condizioni di salute. Ecco le parole della presentatrice delle Iene e del grande fratello Vip. Abbiamo uno stato d'animo un po' approvato. È una persona importantissima per questo programma, un'amica, perché noi siamo una grande famiglia, un'amica che è stata male, ha replicato Ma Mukari. È stato uno dei peggiori weekend della nostra vita. Qui interviene la Jalapas con loro consueto linguaggio diretto fuori campo. Ci siamo un po' cagati sotto. Poi ha ripreso la moglie di Francesco Totti, annunciando. Sono tre giorni che volevano dirvelo quindi volevano dirvelo a voce alta. Nadia sta meglio anche se ovviamente ha bisogno di un paio di giorni per riprendersi. Ciao Nadia non fare scherzi. Hanno replicato i tre componenti della Jalapas Band anche perché non li sa fare. Ringraziamo tutti voi per l'affetto che avete dimostrato per Nadia e per le Iene. Chiusano in coro i presentatori. A presto dunque.